Andrea De Logu, dopo i gossip degli ultimi mesi che la vedevano vicina a Stefano De Martino, chiarisce il rapporto con il conduttore ballerino. La 39enne, dopo la fine del matrimonio con l'attore Francesco Montanari, è stata spesso avvistata con l'ex di Belen. Nei giorni scorsi è stata anche vittima di un incidente. Porto il bastone perché zoppico. Stavo con De Martino, un amico, siamo andati a mangiare da un amico in comune che abita al quarto piano senza ascensore, racconta la presentatrice. La conduttrice è caduta dalle scale. Sono ruzzolata giù e ho sentito crack al piede, una figuraccia. Per fortuna con Stefano ci vogliamo bene. Siamo in confidenza e sti cavoli, davvero eroe. La soccorsa, portandola in braccio per quattro piani. Alla fine il piede non era rotto. Stefano mi ha portato a casa e mi ha medicato. La mattina dopo mi ha chiamato per sapere come stavo. Un gentleman mi ha salvata, confessa Andrea. Chissà se la loro resterà solo un'amicizia. Grazie. Grazie. Grazie.